Ciao a tutti ragazzi e sono tornato, sì, ebbene sì. E niente, oggi volevo farvi una piccola lezione di storia, definiamola così, su un argomento che sta diventando tanto popolare nell'ambito videoludico. Non immaginate quante assurdità ho sentito su Ray Tracing. Quindi, cos'è Ray Tracing in parole povere? Scopriamolo! Nella computer grafica il Ray Tracing è una tecnica di rendering che serve a generare un'immagine con un calcolo preciso che la luce andrà a seguire nello spazio tridimensionale, simulando anche gli effetti dei suoi dovuti incontri, ribalsi, con gli oggetti di scena virtuali. Questa tecnica è in grado di produrre un alto grado di realismo visivo, ma ad un costo in prestazioni maggiore. Il Ray Tracing è sempre stato utilizzato nel mondo del cinema, dell'animazione e dal 2019 circa è arrivato anche nei videogiochi, prima sul PC e in forma ridotta sta arrivando anche sulle nuove console. Il Ray Tracing è in grado di simulare una varietà di effetti ottici, come fenomeni di riflessione e rifrazione, diffusione e dispersione. Potrebbe anche essere utilizzato per tracciare il percorso delle onde sonore, rendendolo un'opzione praticabile per un sound design di videogiochi più coinvolgente. Il Ray Tracing è una forma di Ray Tracing in grado di produrre ombre morbide, occlusione ambientale, profondità di campo, sfocatura di movimento, caustiche e illuminazione indiretta, o cosiddetta globale. Praticamente è tutto ciò che vediamo quasi nei titoli che supportano oggigiorno il Ray Tracing. Quelli che vedete sono esempi per farvi capire il livello di realismo visivo che raggiungono i videogiochi grazie a questa tecnologia. Ovviamente non tutti i videogiochi implementano l'utilizzo del Pad Tracing. Alcuni fanno uso solo dei riflessi o delle ombre. Le Screen Space Reflections si usano da anni e sono interamente basate sulla prospettiva della camera. Quindi quando noi attiveremo le Ray Tracing Reflections, qualunque sia l'angolazione della camera, non vedremo mai il fading effect che invece attua la Screen Space. Vabbè ragazzi, a parte tutto questo, spero che questo video informativo vi sia piaciuto. E niente, non so se farò mai più video su YouTube perché ogni volta torno dopo due, tre, quattro anni, non ci siamo. Comunque, alla prossima!